Settimana chiave per l'edilizia ospedaliera della provincia di Pesaro Urbino. A stretto giro di posta dall'assegnazione dei lavori del nuovo ospedale di Pesaro, si avvia anche il cantiere per il nuovo presidio ospedaliero di Cagli con l'assegnazione ufficiale dei lavori. Il nuovo ospedale e casa di comunità cagliese si svilupperà in un'area pianeggiante di 12.000 m2 in località San Lazzaro. Un intervento del valore di 15 milioni di euro che comprenderà un piano interrato e due piani fuoriterra con 36 posti letto destinati alle cure intermedie e a servizi dedicati all'emergenza urgenza territoriale. È stato installato il cantiere che darà la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero e sanitario di questo importante centro del nostro introterra. 15 milioni di euro per un presidio che è centrale nella valle del Metauro e che è stato affidato ad una ditta tutta marchigiana che ha vinto la gara, la ditta Torelli e Dottori di Cumpramontana. Avanziamo così con l'edilizia sanitaria e ospedaliera delle Marche per recuperare il tempo perso nella tutela del diritto alla salute dei marchigiani. Una struttura importante sia per Cagli ma per tutto il nostro territorio e continueremo a collaborare affinché all'interno di questa struttura vengano portati tutti i servizi necessari alla nostra comunità.